Normalmente dire che una cosa è fatta con i piedi significa che è fatta male. Non dimentichiamo però che le persone hanno diversi tipi di intelligenza e se qualcuno ha una spiccata intelligenza sportiva è bene valorizzarla. Da quest'idea è scaturito il progetto Sognare con i piedi che si è concretizzato in un torneo di calcio all'oratorio San Luigi di Leno. La forza di questa esperienza non è stata tanto nell'organizzazione del torneo di calcetto estivo ma nell'instaurare una rete di relazioni educative a favore dei ragazzi coinvolti e dei loro coetanei partendo dalla presa di coscienza da parte della comunità di alcune problematiche che ormai sono quasi all'ordine del giorno anche nei nostri oratori per gli adolescenti e i giovani. Ci piaceva l'idea di poter stimolare la sensibilità dei ragazzi nel cercare delle cose belle per la loro esperienza, per la loro vita di aiutarli a puntare in alto e a poter capire che ci si può divertire essere felici senza osare o scadere in comportamenti pericolosi, negativi. Ci hanno chiesto di poter continuare a fare un'esperienza come questa ma bello anche perché c'era un clima di condivisione abbiamo avuto solo un ammonito pensate per fare un esempio dal punto di vista comportamentale ma al di là di quello veramente un bel clima sereno che ha coinvolto anche molte famiglie. L'intero progetto è stato e continuerà ad essere un'occasione per prendersi cura della propria comunità riconoscendo l'importanza di offrire ai ragazzi un'opportunità di divertimento e socialità entro un ambiente sicuro. La comunità è stata inoltre chiamata a contribuire anche da un punto di vista economico attraverso la modalità del crowdfunding coordinata dalla Cassa Padana di Leno che ha anche contribuito con il 20% della quota. Infine gli organizzatori hanno deciso che il premio finale non avrebbe contemplato alcuna somma di denaro. I membri delle prime due squadre classificate hanno partecipato di diritto come ambasciatori ad una campagna promozionale che verrà sussidiata dall'oratorio e diffusa sul territorio comunale e dai canali social per promuovere uno stile di intrattenimento e socializzazione positivi. Questa iniziativa ha avuto un esito positivo con il sognare con i piedi dell'oratorio di Leno e quindi come banca abbiamo deciso di proseguire questa collaborazione di sensibilizzazione sul tema dei comportamenti giovanili appoggiando appunto questa campagna di sensibilizzazione creando dei pannelli che verranno installati sul territorio con tre temi principali che sono i comportamenti pericolosi il bere responsabilmente e anche il discorso delle relazioni.